Grazie Presidente. Stiamo parlando di una convenzione che riguarda il quarto municipio, una convenzione stipulata nel 2004 con la società CAM per la realizzazione di alcune opere pubbliche necessarie alla città e ai cittadini di quel municipio. Però è successo che questi patti convenzionali erano particolarmente critici per l'attuazione della convenzione stessa e sono stati oggetto di numerose interlocuzioni e commissioni. Inoltre c'è stato poi un intervento del TAR che ha insediato un commissario ad acta e attualmente si sta procedendo a una transazione proprio per evitare all'amministrazione di sperperare risorse pubbliche e quindi una sorta di tutela proprio per l'amministrazione capitolina. Per cui con una memoria di giunto si è dato indirizzo proprio di procedere in questo senso. Quindi con questa mozione noi siamo a chiedere che il Comune di Roma realizzi con risorse proprie le opere attese dai cittadini e non realizzate dalla CAM con la convenzione. Stiamo parlando della ristrutturazione della scuola pubblica dei via Pellio e l'individuazione di uno spazio esistente o la realizzazione ex no di un edificio adibirsi a servizi pubblici di quartiere. Proprio perché attualmente se dovesse farli la ditta CAM ci costerebbero tre volte tanto, stiamo parlando di 14 milioni contro lavori che potranno costare 5 milioni. Quindi per questo è stata presentata questa mozione proprio a tutela dell'amministrazione capitolina. Grazie.